Ciao a tutti, benvenuti sul nostro canale. Prima di immergerci nelle notizie di oggi, vi invito a cliccare sul tasto iscriviti e ad attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità. E se trovi interessante questo video, non dimenticarti di lasciarci un mi piace. Grazie mille per il supporto. Oggi ci troviamo a condividere con voi una notizia davvero triste, una di quelle notizie che non vorremmo mai dover raccontare. Durante l'ultimo episodio di estate in diretta, i conduttori Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo hanno fatto un annuncio commovente. Entrambi erano visibilmente addolorati e a chiunque sarebbe difficile comunicare una notizia simile. I due hanno annunciato che dopo giorni di agonia e di lotta tra la vita e la morte, nelle scorse ore si è spento Luigi Puccini. Il conduttore Gianluca Semprini ha rivelato che le speranze erano pochissime e dalla fine Luigi Puccini non ce l'ha fatta. Il pensionato è morto proprio nel giorno di ferragosto. Il talk di Rai 1 aveva seguito questa triste vicenda sin dall'inizio ed aveva raccolto anche le parole della moglie. Luigi Puccini, dopo giorni di lotta tra la vita e la morte, purtroppo, non ce l'ha fatta. La notizia arriva dopo un periodo di profonda speranza, anche se, come ha detto Gianluca Semprini, le prospettive erano sempre state minime. E per rendere questa vicenda ancora più tragica, Luigi Puccini è deceduto proprio il giorno di ferragosto. Il team di estate in diretta su Rai 1 ha seguito questa vicenda fin dal suo inizio, ma andiamo a capire cosa è realmente accaduto. La storia inizia in un tranquillo bar di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Luigi Puccini era lì, seduto tranquillamente, sorseggiando il suo cappuccino e gustando una brioche. Ma quello che doveva essere un normale giorno si è trasformato in una tragedia. Sulla sua strada ha incrociato una coppia e da lì è partita la tragedia. Stando alle ricostruzioni di alcuni testimoni, il giovane, convinto che l'uomo avesse lanciato uno sguardo di troppo alla sua fidanzata, è andato verso di lui per chiedergli spiegazioni. Puccini si è alzato per capire meglio ed è stato colpito. L'uomo è finito in coma per qualche giorno per poi morire a ferragosto. Nunzia de Girolamo ha dichiarato, abbracciamo la signora per questo lutto. Si è unito alle sue parole anche Gianluca Semprini. Puntata molto particolare quella su Rai 1, anche perché in apertura di puntata, poco prima di andare in onda, Nunzia de Girolamo è svenuta. È una notizia davvero sconvolgente e ci uniamo al dolore della famiglia e degli amici di Luigi Puccini. Desideriamo estendere le nostre più sincere condoglianze a loro in questo momento difficile. A te che ci stai ascoltando, ti chiediamo, cosa ne pensi di questa tragica vicenda. Ti preghiamo di condividere i tuoi pensieri e sentimenti scrivendo un commento sotto al video. La tua opinione è preziosa per noi. Grazie per averci seguito e speriamo in tempi migliori per tutti noi. A presto.